In 14 ore quando giochi un po' di mani è ovvio fare errori, però quegli errori a volte ti permettono di capire gli avversari. L'errore che ho fatto oggi mi ha costato un po' di soldi, allo stesso tempo ho anche una mano sfortunata visto che c'è 5-5-7-5 jack e io ho un jack in mano. Quindi ho full dei 5-5 con jack e forse potevo risparmiare un 10-12 mila perché mi ha fatto check-raise uno dei giocatori però era il più lose al tavolo. Penso che mi avrebbe fatto check-raise anche con il jack finale, quindi invece aveva 7-7. Davvero non avevo mai giocato forse un main event così bene come questa volta, stavo appunto pensando che non ho mai avuto due K, due assi, due donne in 14 ore di gioco. Oggi mai asso K e al primo set sono uscito, comunque una chiamata tranquilla e sono andato a 41. Oggi invece ero salito bene subito a 70, poi ho perso una mano che non ho giocato benissimo e poi non ho più visto carte, anzi non le ho mai viste. Perché ero salito comunque solo unicamente con piccoli piatti, con delle mani medie e proprio sfruttando uno dei giocatori che continuava a battere gli altri. Però era molto un call station, cioè non passava con underpair, chiamava, quindi se fai anche top pair riuscivi a prenderli tutti. Adesso l'ultima mano purtroppo 2-7, lui rilancia 2000, io ho collato con 2-7. Da che posizione? Lui tipo UTG più uno, io ero in posizione, mi sembra catoffo quasi, ho chiamato perché tanto comunque nessuno andava a squisare lui. Cioè io ho comunque le chips che non posso collare se qualcun altro squisa e quindi sono proprio al limite e di conseguenza non posso farlo con una coppia così. Però siccome è lui che rilancia, nessuno l'avrebbe squisato, infatti tutti hanno passato, anzi, flap 7-8-9, io 2-7, quindi 3-7-7, lui punta, io rilancio, lui all-in, call aveva 2-jack.